Più di 250 bambini di età compresa tra 0 e 18 anni sono stati coinvolti alla manifestazione unica nel suo genere mai svolta in Italia dal titolo Insieme per Essere Comunità, manifestazione che ha avuto luogo a San Cataldo all'interno dei locali dell'Istituto Faccianella. Un grande evento all'insegna della solidarietà che nasce dall'esigenza di tutte le comunità alloggio per minori e case famiglia che operano nel territorio del centro della Sicilia di rendere protagonisti bambini inserite nelle comunità. Sono 19 le comunità che partecipano a questo straordinario evento, più di 250 bambini inseriti nelle comunità che oggi prendono parte ad una festa straordinaria, ad una festa che li rende protagonisti perché lo sono, le comunità vivono per questi ragazzi. Una giornata di festa, una giornata di attività ludiche e ricreative, gruppi di ragazzi divise in funzione alla fascia di età, 0-9 anni all'interno dell'area gonfiabile che l'associazione ha realizzato appunto per i bambini, poi più grandicelli impegnati nel campo di calcio e con la pallavolo. Associazioni straordinarie che hanno partecipato a questo evento e che ci stanno aiutando nelle diverse attività. Mi permetto di ringraziare, vorrei ringraziare le associazioni come Amici e Sorriso, tutti i ragazzi laureanti in medicina che prestano il loro servizio nell'animazione, gli scout di San Cataldo, l'oratorio Salesiano, gli animatori dell'oratorio Salesiano e tutte le altre realtà, le imprese locali che hanno, che ci hanno collaborato nelle diverse manzioni, nelle diverse opportunità per realizzare questo evento. Un evento che vuole essere un momento di incontro, di confronto e di crescita. Non è una ricorrenza, è soltanto l'inizio di ciò che le comunità vogliono realizzare per il territorio. Un ponte tra le istituzioni, un ponte per il territorio, un'opportunità di crescita e di confronto. L'iniziativa nasce dal volere vivere insieme un momento di festa con tutte le nostre ospiti, perché comunque i bambini stando insieme in questa festa cominciano a creare anche segni di comunione, ma soprattutto anche perché ci siamo voluti incontrare con tutti gli altri responsabili, tutti della provincia di Enna, Caltanissetta e una rappresentanza di Agrigento, per vivere anche dei momenti di comunione tra di noi, perché non è vero che si può pensare che tra i responsabili ci siano attriti per le accoglienze, assolutamente no, anzi abbiamo vissuto momenti gioiosi di comunione durante le riunioni per preparare questa grande manifestazione che è la prima che si compie in tutta Italia ed è quello l'obiettivo, fare festa tutti insieme e vivere momenti di solidarietà.